Diritto amministrativo video lezione numero 24 i beni pubblici e la proprietà privata. I beni pubblici. La dottrina ha elaborato alcuni criteri per stabilire quando un bene di un ente sia qualificabile come pubblico. Un criterio soggettivo fondato sull'appartenenza del bene ad un ente pubblico, un criterio oggettivo fondato sulla funzione del bene, cioè è pubblico solo quel bene che realizza un interesse pubblico, e un criterio sia soggettivo che oggettivo fondato sull'appartenenza di un bene ad un ente pubblico e contemporaneamente realizza un interesse pubblico. Pertanto i beni pubblici vengono definiti come quei beni appartenenti alle organizzazioni pubbliche e funzionalmente destinati alla cura di interessi pubblici. Anche i beni ambientali rientrano tra i beni pubblici e sono definiti come beni immateriali di interesse collettivo. I beni pubblici si suddividono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili. I beni demaniali. I beni demaniali sono beni immobili o universalità di beni mobili e appartengono a denti pubblici territoriali, e cioè allo Stato, alle regioni, alle province o ai comuni. All'interno della categoria dei beni demaniali la dottrina opera diverse distinzioni. Demanio necessario e demanio accidentale, per esempio. Il demanio necessario comprende quei beni immobili che sono demaniali per natura. Sono tutti di proprietà dello Stato e solo eccezionalmente delle regioni. Il demanio accidentale, invece, comprende quei beni immobili ed universalità di mobili, elencati dall'articolo 822,2 del Codice Civile, che possono appartenere a chiunque, ma laddove siano proprietà dello Stato o di un altro ente pubblico, sono demaniali. Questi beni, quindi, acquistano lo status demaniale se appartengono ad un ente territoriale. Il demanio regionale. Fanno parte del demanio delle regioni ordinarie i beni del cosiddetto demanio accidentale quando siano di loro proprietà. Per le regioni a statuto speciale i beni facenti parte del loro demanio sono indicati nei rispettivi statuti. Regime giuridico. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili, non sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione da parte di altri soggetti, il diritto di proprietà pubblica dell'ente è imprescrittibile, i beni demaniali non possono essere espropriati. beni patrimoniali indisponibili. I beni patrimoniali indisponibili sono quei beni pubblici che a differenza di quelli demaniali possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e non solo ad enti territoriali e consistono sia in beni immobili che in beni immobili. Tali beni sono indisponibili per natura, ad esempio miniere, acque termali. Sono indisponibili per l'appartenenza ad un ente pubblico, ad esempio le foreste, oppure indisponibili per destinazione, ad esempio le caserme. Inoltre ai sensi del decreto legislativo 85 del 2010, il cosiddetto decreto sul federalismo fiscale, i beni che possono essere trasferiti sono quelli appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali, quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione dei fiumi e dei laghi nell'ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, fermarestando comunque l'eventuale disciplina di livello internazionale. Gli aeroporti, quindi i beni che possono essere trasferiti, rientrano anche gli aeroporti di interesse regionale o locale, appartenenti al demanio aeronautico civile, statale e le relative pertinenze, e ancora le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma, gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento. Sono invece esclusi dal trasferimento gli immobili in uso per finalità istituzionali dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, i beni appartenenti al patrimonio culturale e altri specificamente previsti dalla legge. Tutela dei beni pubblici. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. L'autorità amministrativa può procedere sia in via amministrativa, attraverso lo strumento dell'autotutela, sia a valersi dei mezzi ordinari, a difesa della proprietà e del possesso, agendo dinnanzi all'autorità giudiziaria previsti dal Codice Civile. I beni patrimoniali disponibili. Fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato, tutti i beni, diversi da quelli demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili. Di norma i beni facenti parte del patrimonio disponibile sono produttivi di reddito per l'ente. Tali beni si distinguono in beni corporali, in genere beni immobili, beni incorporali, ad esempio diritti reali su cose altrui e diritti di credito, titoli di credito, ad esempio titoli dello Stato, azioni, eccetera, e denaro che l'ente incassa a qualsiasi titolo. I beni patrimoniali disponibili sono soggetti alle comune regole del diritto privato, eccetto l'alienazione che deve sempre avvenire nelle forme del diritto pubblico. La proprietà privata è il governo del territorio, il regime amministrativo della proprietà privata. Il diritto di proprietà consiste nel potere di usare, fruire e disporre di una cosa nei limiti imposti dalla legge. La proprietà può essere pubblica o privata e la legge ne specifica i modi di acquisto, di godimento e di limiti al fine di assicurarne la funzione sociale. Alla proprietà privata possono essere imposti limiti negativi per diversi fini, ad esempio limiti nell'interesse della proprietà pubblica, limiti nell'interesse della difesa militare, limiti di interesse urbanistico, limiti imposti dalla pubblica amministrazione. Gli atti di privazione del diritto di proprietà da parte della pubblica amministrazione possono essere distinti in atti di trasferimento coattivo del diritto, con questi atti la proprietà viene trasferita ad imperio da un soggetto a un altro, atti di attribuzione coattiva del diritto d'uso, qui la disponibilità materiale del bene viene attribuita a soggetti diversi dal proprietario seppur non viene trasferita la proprietà. Provvedimenti che privano parzialmente del godimento dei beni, questi incidono soltanto su alcune facoltà di godimento del bene. E poi altri atti che sacrificano diritti sui beni, questa è una categoria residuale cui rientrano atti che per vari motivi eludono facoltà o diritti sui beni. Il governo del territorio. L'urbanistica è la branca del diritto che ha per oggetto le norme che regolano lo svolgimento delle attività di trasformazione del territorio. La funzione urbanistica è svolta da diversi soggetti pubblici. Allo Stato e alle regioni è attribuito il potere legislativo in materia, quindi perché vi è la competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ai comuni e alle province spettano invece funzioni nella progettazione e nell'adozione degli strumenti urbanistici rispettivamente di livello comunale e provinciale. Come funzione amministrativa l'urbanistica è una funzione di pianificazione e si esplica attraverso l'emanazione di atti amministrativi di carattere generale, ad esempio piani regolatori, specifico autorizzazioni e concessioni edilizie. Essi incidono sul diritto di proprietà dei cittadini regolamentandolo e limitandolo in vario modo. Si precisa che la cosiddetta legge del Rio, quindi la legge 56 del 2014, attribuisce alle province la funzione di pianificazione territoriale e provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza. Inoltre attribuisce alle città metropolitane la funzione di pianificazione territoriale generale e vi comprese le strutture di comunicazione. Funzione legislativa in materia di governo del territorio. La legge costituzionale 3 del 2001, modificando l'articolo 117 della Costituzione, ha introdotto due importanti cambiamenti. È stata introdotta la locuzione governo del territorio al posto della materia urbanistica. Inoltre il governo del territorio e le altre materie che vengono ad integrarsi necessariamente nel concetto del governo del territorio rientrano tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Alle regioni ad autonomia speciale è stata riconfermata una competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, seppur nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, dagli obblighi internazionali. Pianificazione urbanistica e strumenti urbanistici. Il piano regolatore. La pianificazione urbanistica disciplina specificamente la distribuzione spaziale degli interventi nel territorio e organizza i relativi strumenti strutturali per un ordinato sviluppo dello stesso, compatibilmente con lo sviluppo economico. Esso appunto ha funzioni di controllo e di indirizzo delle trasformazioni del territorio. I piani urbanistici costituiscono a loro volta strumenti di controllo e di indirizzo dello sviluppo urbanistico. Il piano regolatore generale è lo strumento di disciplina urbanistica a livello comunale, articolato in previsione strutturale, in cui vengono identificate le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, e previsioni programmatiche, in cui viene operata vengono operate localizzazioni delle aree da ricomprendere nei piani urbanistici esecutivi o attuativi. Esso si intende alla totalità del territorio comunale ed è efficace a tempo indeterminato, cioè fino a quando non venga approvato un nuovo piano. I piani regolatori. Da un lato dettono norme regolamentari dal carattere programmatico. Necessitano poi di appositi atti attuativi, cosiddetti piani particolareggiati, per essere attuate. Dall'altro, questi piani regolatori contengono anche prescrizioni immediatamente precettive, sottopongono a vincolo i fondi, i siti nelle aree destinate ad uso pubblico o a limitata espansione. Il piano regolatore generale può imporre i seguenti vincoli. Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli di inedificabilità assoluta o relativa in aree destinate a verde oppure a bassa urbanizzazione. Il testo unico in materia di espropriazione ha raccordato le norme sull'espropriazione con quelle sulla pianificazione urbanistica. Tra queste, il vincolo preordinato all'esproprio alla durata di cinque anni. Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il vincolo preordinato all'esproprio decade se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Il vincolo preordinato all'esproprio dopo la sua decadenza può essere motivatamente reiterato. In caso di reiterazione del vincolo è dovuto al proprietario un'indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. L'edilizia è il regolamento edilizio. L'attività edilizia si sostanzia nella costruzione di manufatti stabili destinati a soddisfare i bisogni abitativi o produttivi. Con il DPR 380 del 2001 tutta la disciplina frammentaria sull'edilizia è stata raccolta in un testo unico. Il regolamento edilizio è uno strumento integrativo essenziale dei piani urbanistici che stabilisce come costruire diversamente dal piano urbanistico che si occupa di stabilire dove costruire. Il regolamento edilizio è predisposto dall'aggiunta comunale e adottato con delibera del consiglio comunale. È poi sottoposto ad approvazione da parte della regione e successivamente si ha la pubblicazione all'albopretorio. Natura giuridica. Il regolamento edilizio è un atto di normazione secondaria. Non è autonomamente impugnabile se non quale atto presupposto unitamente all'atto applicativo lesivo degli interessi del privato. Il regolamento edilizio deve contenere la disciplina delle modalità costruttive con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. L'attività edilizia. Gli attività edilizzi realizzabili sono attività edilizia totalmente libera. Per la realizzazione di questi interventi edilizi non è richiesto alcun titolo abitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione all'ente comunale. Attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori. In questo caso gli interventi edilizi possono essere eseguiti senza rilascio di alcun titolo abilitativo ma necessitano della previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al comune. Poi vi è anche l'attività edilizia soggetta a permesso di costruire. Sono soggette al previo rilascio del detto abilitativo. Gli interventi edilizzi indicati nell'articolo 10 e il DPR 380 del 2001. Attività edilizia soggetta alla cosiddetta super dia. Questi interventi edilizi per espressa previsione della normativa statale o regionale possono essere realizzati mediante dia denunce di inizio attività in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire e poi attività edilizia soggettiva soggetta a scia. Possono essere realizzati con la segnalazione di inizio attività scia tutti i restanti interventi edilizi non rientanti nella precedente ipotesi. I titoli edilizi. I titoli edilizi riconosciuti nel nostro ordinamento sono soltanto due. Il permesso di costruire è la segnalazione certificata di inizio attività che ha sostituito l'originale denuncia di inizio attività il cui ambito di applicazione varia a seconda dell'intervento da effettuare. Il permesso di costruire è il provvedimento che legittima le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Tra interventi da sottoporre al previo rilascio del permesso di costruire si distinguono interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia quando questi comportino modifiche della volumetria degli edifici e dei prospetti, ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli. Inoltre le regioni possono sottoporre al permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività ulteriori categorie di interventi. Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ed esso è soggetto al pagamento di oneri concessori. Il decreto legge 70 del 2011 ha introdotto il principio del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire. La domanda per l'ottenimento del permesso va presentata allo sportello unico per l'edilizia corredata dalla documentazione tecnica necessaria. Lo sportello ricevuto alla richiesta di permesso deve nominare entro dieci giorni il responsabile del procedimento, il quale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda deve concludere l'istruttoria e formulare una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione. Il responsabile del procedimento qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario può richiedere tali modifiche illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e in caso di adesione è tenuto a integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. Il provvedimento finale che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro il termine di 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. Decorsi inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo il permesso si intende formato per silenzio assenso fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La segnalazione è certificata di inizio attività. La SCIA è una procedura amministrativa introdotta dalla legge 122 del 2010 che per quanto riguarda la sua applicazione nel campo dell'edilizia ha sostituito la DIA. Lo scopo è stato quello di introdurre ulteriori semplificazioni che rendono ancora più snelle le procedure burocratiche necessarie per intraprendere dei lavori edilizi. Infatti la principale novità normativa introdotta è che i lavori possono essere iniziati immediatamente, quindi il giorno stesso in cui la pratica viene presentata al Comune senza dover attendere 30 giorni come previsto per la DIA. Tuttavia il Comune ha 60 giorni di tempo per compiere le necessarie verifiche e nel caso in cui riscontrasse qualche irregolarità può interrompere i lavori. trascorso questo lasso di tempo però non può più intervenire se non in caso di danni o pericoli per il patrimonio artistico, per la salute e la sicurezza delle persone. Si segnala in ultimo che il DPR 380 del 2001 individua alcune categorie di interventi edilizi cosiddetti liberi e che dunque non necessitano per la loro realizzazione di alcun titolo abilitativo.